Scegli oggi? Il tuo domani! Ciao, sono Marina. Il mio percorso all'insurro è stato a 360 gradi. È iniziato con la laurea triennale in scienze biologiche e proseguito con la laurea magistrale in biologia. Subito dopo ho intrapreso anche il percorso del dottorato in biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche, che si è concluso a giugno del 2020. E ad agosto ho vinto un assegno che mi ha permesso di continuare a svolgere il lavoro per cui ho studiato, la ricerca scientifica. Ciao a tutti, io invece sono Federica, mi sono laureata in triennale in scienze tecnologie biologiche, poi ho continuato il mio percorso di studi sempre qui all'insubria in biotecnologie molecolari industriali. Dopodiché ho potuto continuare il mio lavoro grazie a un assegno di ricerca della durata di un anno e mezzo. Quest'anno invece ho iniziato il dottorato in medicina sperimentale transazionale. Ma il bello è che non solo potrai trovare lavoro, ma se sei fortunato puoi anche trovare un'amica con cui lavorare.